E' troppo fresca l'immagine finale di una stagione storica per poter bruciare le tappe ed immaginare cosa sarà l'ex privia nel diritto Molfetta nel prossimo campionato. E' tempo di rifiatare, fanno sapere i dirigenti della società biancorossa, per questo ogni ragionamento su conferme o nuovi arrivi nello staff tecnico e nella rosa dei giocatori è prematuro. Precisazione necessaria per spegnere sul nascere i fuocherelli di questi giorni anche alimentati dall'entusiasmo del risultato stagionale. L'ottavo posto con annessa partecipazione ai play-off Scudetto su cosa sarà la pallavolo Molfetta dal prossimo autunno. Ufficialmente l'attuale stagione deve essere conclusa con il classico rompete le righe, anche se ci sono alcuni elementi dell'ex privia nel diritto Molfetta già proiettati verso gli impegni delle rispettive nazionali. Bossi e Candellaro in quella azzurra, Schett per la Slovenia, Noda Blanco con quella della Spagna, mentre gli altri protagonisti di questa Superlega in biancorosso si godranno il meritato riposo. E tra i protagonisti va annoverato anche Vincenzo Di Pinto, l'artefice dell'approdo ai play-off Scudetto, giocati alla pari almeno in gara 2 contro Trento. I bene informati assicurano che si ripartirà proprio dal tecnico di Turi per costruire la squadra che nella prossima stagione disputerà per il terzo anno consecutivo la Serie A1 e molto probabilmente sarà ancora l'unica rappresentante del Sud Italia nella pallavolo che conta. La dirigenza del Molfetta però assicura che la principale preoccupazione in queste settimane sarà rivolta al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti di sponsorship, ritenuti la base di partenza per costruire le basi della prossima stagione.